Guardi, assolutamente nell'immediatezza siamo stati contattati dai medici che si sono interessati nella vicenda e dal direttore del dipartimento di chirurgia, i quali ci hanno assicurato che assolutamente è avvenuto tutto nel rispetto dei protocolli. Chiaramente siamo vicini alla famiglia che è stata colpita comunque da un grave lutto. L'azienda farà di tutto per verificare ulteriormente, però gradiremmo che non si sparasse nell'immediatezza alla malasanità per finire di distruggere questa azienda senza che ve ne sia sempre motivo. Se ci saranno delle responsabilità e verranno accertate, per carità, saremo i primi a prenderne atto, però allo Stato ad oggi assolutamente i protocolli risultano rispettati e gradiremmo che non si parlasse di malasanità senza averne piena contezza, nel pieno rispetto comunque del dolore dei familiari.